ciao a tutti benvenuti nel mio canale io sono oliva bottini sono una cantante ed oggi voglio parlarvi di un libro che ho acquistato assolutamente di recente benché fosse uscito da parecchio tempo scat di pop solo è un libro davvero molto utile e interessante per tutti i cantanti e le cantanti che si stanno avvicinando al mondo dell'improvvisazione jazz perché mostra moltissimi esempi di assoli vocali e infatti troverete anche un cd in allegato dove appunto ad ogni tipologia di assolo corrisponde un audio quindi trovate sia l'audio che anche la solo vocale scritto quindi dopo questa brevissima spiegazione io caricherò il secondo video dove vi mostrerò il primo studio che ho effettuato di questo libro quindi rimanete sintonizzati e vi aspetto sempre sul mio canale ciao 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 ciao